I carabinieri della stazione di Fano hanno arrestato un fanese per furto aggravato di offerte dalle cassette dei fedeli della chiesa di Sant'Orso. Le indagini sono partite dalla segnalazione del parroco di alcuni ammanchi riscontrati da tempo. Le offerte, per loro natura non tracciate, erano inserite dai fedeli in buste nominative e servivano per contribuire ad un mutuo acceso dalla chiesa per lavori già svolti. Il parroco ha segnalato in particolare due ammanchi riscontrati nelle giornate del 18 e del 25 novembre scorsi, quando due giovani erano stati notati in entrambe le occasioni durante la mattinata introdursi nella chiesa, avvicinarsi all'offertorio e uscire subito dopo con qualcosa tra le mani. Il sacerdote ha quantificato l'ammanco per entrambi gli eventi in circa 500 euro. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri tramite alcune immagini rilevate da un impianto di videosorveglianza del posto che ha ripreso i due in azione, riuscendo a dare un nome ed un volto ai due ladri. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno deciso così di organizzare un servizio in borghese di osservazione nei pressi della chiesa, quando intorno alle 11 hanno notato arrivare l'uomo che dopo un breve sopraluogo ha prelevato un opuscolo da uno dei banchi e quindi con fare circospetto con una piccola pila ha illuminato la fessura delle offerte e mediante un metro flessibile in metallo, sulla cui punta era presente un biadesivo, ha iniziato a pescare le buste delle offerte. I militari lo hanno subito bloccato e arrestato in flagranza di reato. Nella mattinata odierna il rito direttissimo ha condannato il giovane a un anno e dieci mesi di reclusione e applicata una multa di 400 euro.